Consigliere Ranieri si parla di compartecipazione della spesa socio-sanitaria, quando l'assistenza non è più un diritto, perché? Perché il regolamento che ci è stato presentato non è adeguato a venire incontro ai bisogni dei cittadini, ovvero sia il regolamento non prende in considerazione, o meglio, si parla di regolamento prima ancora di aver definito quello che sarà il reale servizio al cittadino. Quindi voi cosa proponete in tal senso? Noi proponiamo che si proceda secondo quella che è la logica, ovvero che si faccia per prima cosa una ricognizione di quello che è necessario sul territorio, dopodiché si proceda a riorganizzare la rete di assistenza socio-sanitaria, in particolare la lunga assistenza, poi si potrà parlare di ciò che i cittadini devono o non devono pagare. Per quanto riguarda la sanità nella nostra regione resta il commissariamento e il Movimento 5 Stelle resta però critico sulla gestione della sanità nella nostra regione? Assolutamente sì, comunque quello che ci preme è che dal commissariamento si esce in maniera graduale e si esce facendo l'interesse del cittadino, non semplicemente per incassare il dato politico siamo usciti dal commissariamento, quindi si proceda ad uscire dal commissariamento perché si è ben operato, non semplicemente perché si deve dire che siamo usciti. Grazie.